Con noi Eco Futuro 2015, anche Dario Tamburrano, ora europarlamentare ma attivista ed esperto, grazie a Dario, esperto di vecchia data, di tematiche ambientali, della transizione. Allora, come vedi gli scenari futuri ecotecnologici rispetto soprattutto al sud del mondo? Quali scenari immagini? Io credo che qualsiasi ecotecnologia possa aiutare sia al sud che al nord del mondo, soprattutto in un momento storico dove c'è un po' di confusione tra il nord e il sud perché ci sono aree del sud che si stanno sviluppando e aree del cosiddetto nord industrializzato che invece non sono in via di sviluppo ma sono in via di sviluppo. Insomma, tra questi purtroppo mettiamoci anche l'Italia, quindi qualsiasi ecotecnologia a basso costo che possa ridurre l'impatto ambientale o cambiare le nostre percezioni della società può avere comunque risvolto in ogni parte del mondo. In maniera particolare molto interessanti sono le possibilità che ora offre la stampa 3D sia come stampa additiva sia come stampa sottrattiva cioè quindi il classico torino al controllo numerico che permette a basso costo di delocalizzare delle produzioni manifatturiere altrimenti un tempo molto complesse ed eventualmente anche di sviluppare una forma di open source per l'hardware quello che è stato per il software ovvero la creazione di programmi sostenuti dalla comunità e migliorati dalla comunità si possono creare dei macchinari i quali vettoriali i loro spaccati produttivi sono a disposizione della comunità e chiunque con un torino al controllo numerico o una stampante 3D può realizzarli anche in dei villaggi di media dimensione in qualsiasi parte del mondo quindi si tratta di creare una comunità globale che apre la via a nuove forme di produzione. Altre cose di cui mi parlavi prima su combustione eccetera? Sì questa è una cosa che in occidente spesso non ci pensiamo che cosa significhi doversi procurare il combustibile per cucinare ci sono parti del mondo dove procurarsi anche un pochino di legna per cucinare o anche semplicemente per significare l'acqua quando non è comunque potabile è un'impresa come la ricerca dell'acqua, la ricerca del combustibile vi sono delle tecnologie che in realtà non sono nuove ma che ora noi conosciamo più a fondo grazie comunque alle conoscenze scientifiche che possono usare la pirolisi con delle stufette anche possono essere autocostruite anche con dei barattoli di scarto come quelle che ci hai fatto vedere prima? Sì come quella che vi ho fatto vedere e quindi spesso i fatti contano molto più delle parole e soprattutto rimangono più impressi che permettono di raggiungere temperature altissime in pochissimi minuti con una quantità di biomassa piccolissima e anche utilizzando non solo legno ma anche scarti, fogliamme, paglia, anche sterco. Con grandi vantaggi anche per la salute perché lo ricordiamo i principali cause di cecità e malattie polmonari nel sud del mondo sono legate alla combustione della legna durante la stagione delle piogge dentro le capanne che sia Asia, Africa, eccetera. Vi è un'altissima percentuale di incendi, oltretutto la pirolisi, ovviamente parliamo di pirolisi di piccole quantità da non confondere con quella che è la pirolisi industriale. Il prodotto di scarto è il biochar che può essere usato come ammendante organico per il terreno ed è una forma di sequestro del carbonio e permette di fertilizzare il terreno seguendo certe tecniche in maniera praticamente permanente.